Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione dedicata al Veneto in primo piano stasera ci sono i numeri sul fronte del contagio perché c'è un nuovo boom giornaliero si sfiorano i mille positivi quest'oggi 931 per la precisione ieri erano stati 883 due le vittime registrate che portano il totale dei deceduti a 11.858 gli attualmente positivi nella regione sono 13.609 sono numeri che non si registravano da diversi mesi il totale degli infetti dall'inizio della crisi ha raggiunto i 487.192 sale anche l'incidenza pari all'1.1% sugli 84.248 tamponi eseguiti per quanto riguarda l'andamento negli ospedali si mostra un aumento deciso dei ricoveri nei reparti non critici 273 mentre resta pressoché stabile il dato sulle terapie intensive 57 i dati sono stati resi noti oggi in conferenza stampa dal governatore Luca Zaia che è tornato anche ad aggiornare per quanto riguarda il percorso di vaccinazioni tra prime seconde e terze dosi e poi è tornato anche a richiamare i cittadini all'attenzione nel utilizzare la mascherina e l'igienizzazione delle mani ascoltiamo siamo giunti alla 7.366.000 vaccinazioni quasi 67.000 quindi 7.366.000 vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state praticate 14.248 vaccini si è inoculati 14.248 vaccini il 10 novembre 2020 avevamo 50.000 tamponi il 10 novembre di oggi 84.000 tamponi i positivi 10 novembre dell'anno scorso erano 2.763 quella giornata oggi sono 931 l'incidenza percentuale sui tamponi in quella giornata era il 5,47% oggi è l'1,11 in terapia intensiva avevamo 210 persone oggi ne abbiamo 57 gli appelli che diciamo intanto siamo preoccupati del fatto che questo incremento delle delle positività che anche una sua stagionalità lo dobbiamo dire che poi legata strettamente al fatto che man mano cresce a meglio diminuisce la temperatura sto dicendo cresce il freddo diminuisce la temperatura parallelamente noi ci chiudiamo in casa ci chiudiamo in ambienti chiusi non pranziamo più all'aperto le porte dei bar e dei locali sono chiuse e ogni condizione di assembramento se non protetta se non protetta ci porta alla positività ecco davanti a tutto questo vediamo un sacco di cittadini senza mascherina ed è il vero problema se non si spiegherebbe come mai al di là del buon lavoro che sta facendo il vaccino che non si fa riempire gli ospedali come mai comunque le infezioni ci sono siccome per avere l'infetto bisogna che sia un infettante e bisogna che tra i due non ci sia una barriera è innegabile che vuol dire che molto spesso gli assembramenti e rapporti diciamo tra le persone non sono diciamo protetti da quello che è il dispositivo che è la mascherina e l'igiene delle mani quindi appello ai cittadini di mettersi assolutamente al sicuro di non abbassare la guardia sul tema in particolare dei ricoveri ospedalieri ha fatto oggi il punto sempre in conferenza stampa il dottor paolo rosi che è il direttore della centrale operativa del suem 118 del veneto nelle terapie intensive il 27 per cento dei pazienti ricoverati per covid è vaccinato restante 73 per cento no ascoltiamo anche le sue parole la lettura non deve essere che percentuale ci sono di ricoverati vaccinati ma qual è l'incidenza dei ricoverati vaccinati questo è l'unico dato che ci dice cosa sta succedendo che fotografa correttamente la situazione dei altri sono dati fuorvianti poi se andiamo a vedere i numeri assoluti negli ultimi sei mesi abbiamo ricoverato 68 vaccinati e 442 non vaccinati sono morti 84 non vaccinati e 17 vaccinati ma se poi andiamo a scorporarli per età andiamo a vedere che ovviamente la mortalità è maggiore nelle fasce più anziane ma andremo a vedere che i vaccinati che sono deceduti appartengono alla fascia degli anziani dei grandi anziani e di quelli già affetti da altre patologie abbiamo già parlato quelli che hanno avuto un trapianto quelli che fanno patologie che hanno neoplasie che fanno terapie immunosoppressive e andiamo a scoprire che nella fascia tra 60 e 69 è morto un solo paziente con covid contro 27 scusate un solo paziente vaccinato contro 27 non vaccinati lasciamo la pagina covid per parlare delle iniziative dedicate al turismo accessibile che si stanno portando avanti a Iesolo in particolare in vista della prossima stagione estiva è stato presentato il progetto Iesolo destinazione accessibile che porterà al riconoscimento del macchio village for all come località complessamente accessibile ascoltiamo le parole del responsabile dell'iniziativa Roberto Vitali Roberto Vitali village for all allora da oggi è ufficialmente iniziato un percorso che porterà Iesolo a diventare una città completamente accessibile comunque inclusiva un marchio di qualità importante ma importante anche l'aspetto concettuale cioè non si parla soltanto di rispetto delle norme ma di rispetto dell'ospite quindi di ospitalità che deve essere questa stessa accessibile si il progetto chiaramente non è basato sul rispetto delle norme ma su come si accolgono questi ospiti facendoli diventare clienti ma soprattutto per creare un'ospitalità che sia accessibile questo non significa che non rispettiamo le norme sull'accessibilità sull'abbattimento ma significa che andiamo molto oltre perché vogliamo rispettare con questo progetto le persone le esigenze le esigenze delle famiglie con bambini piccoli dei senior di chi ha una disabilità che sia motoria sensoriale cognitiva c'è tutto un mondo di esigenze che oggi troppo spesso vengono interpretate o dovendo rispettare delle norme o rispondendo a una specifica disabilità noi in realtà dobbiamo rispondere alle esigenze degli ospiti creare un'ospitalità che sia accessibile e fruibile e questo ci permetterà di aumentare le quote di mercato di Iesolo come destinazione turistica ma soprattutto ci permetterà di rendere il territorio di Iesolo più accessibile prima di tutto per chi ci abita, per le persone che la vivono quotidianamente perché noi possiamo fare turismo accessibile e quindi ospitalità accessibile in un territorio che è accessibile prima di tutto per i propri abitanti Oggi il via si diceva prima con la spiegazione del progetto nel suo insieme quali saranno i prossimi passaggi nell'immediato? Intanto partiamo dall'analisi del territorio, di ciò che c'è, ciò che esiste perché come tutte le destinazioni anche Iesolo ha già una sua offerta di servizi accessibili, di opportunità sportive, turistiche, culturali che hanno al loro interno delle tipologie di accessibilità che devono essere identificate, devono essere riconosciute e vanno misse in connessione e devono diventare parte del progetto, dell'offerta turistica per poter esprimere tutto il loro valore Ci spostiamo ora a Porto Gruaro dove ha preso avvio il progetto Pets, storie di un amore incondizionato un evento che durerà fino al 14 novembre dedicato ai Quattro Zampe organizzato e promosso dal centro commerciale Adriatico II ad aprire la giornata una cerimonia nel palazzo municipale di Porto Gruaro con la consegna di un cane guida donato dalla struttura commerciale e addestrato dal servizio Cani Guida Alliance a una persona ipovedente Ha preso avvio oggi Pets, storie di un amore incondizionato L'evento che durerà fino al 14 novembre dedicato alle amici a Quattro Zampe organizzato e promosso dal centro commerciale Adriatico II di Porto Gruaro Ad aprire le giornate dell'evento oggi la cerimonia presso il palazzo municipale di Porto Gruaro per la consegna di un cane guida donato da Adriatico II e addestrato dal servizio Cani Guida Alliance a una persona ipovedente Beh, devo innanzitutto ringraziare il centro commerciale Adriatico e il servizio Cani Guida del Alliance perché hanno avuto la sensibilità di toccare un tema importante quale è quella della guida degli ipovedenti ed è una sensibilizzazione che noi come Comune vogliamo portare alla cittadinanza che il tema c'è e dobbiamo risolverlo per le persone possibili Il cane è uno dei migliori amici dell'uomo e quindi in questo senso ci aiuta per la prevenzione del riciclaggio e del spazio di droga e quindi fra poco sarà di aiuto alla polizia urbana che farà questo servizio importante vicino alle scuole La nostra società ormai da anni ha deciso di devolvere una grande quota del suo budget pubblicitario a questi eventi di carattere sociale, educativo e culturale queste sono iniziative a cui noi teniamo parecchio e oltre all'associazione Lions con la quale collaboriamo ormai da due anni abbiamo convolto le altre associazioni quindi il progetto Serena per quanto riguarda i cani da diabete piuttosto che il canile di villotta Dare un cane in vita a una persona non vedente non è solamente dare due occhi per varie ragioni non più ma è dargli la vita perché diventa una cosa unica uno non può farne meno dell'altro diventano i simbiosi completi e questo è il bello e commovente vedere ed è quello che noi ci dà la forza di poter continuare a farlo anche se ovviamente può essere anche importante continuare però visto l'obiettivo, visto quello che viene, visto la gioia, la vita che dai a queste persone ti danno la forza di poter continuare e migliorare sempre di più Ci spostiamo ora nel territorio del Trevigiano importante acquisizione per un'azienda la 21 Invest guidata da Alessandro Benetton avrà la maggioranza delle quote di Zanzar System S.p.a un'impresa pugliese, scusate, leader europea nella produzione di zanzariere e altri accessori per la casa 21 Invest, il gruppo fondato e guidato da Alessandro Benetton rileverà la maggioranza dell'azienda Zanzar sita nella provincia di Taranto leader in Europa nella produzione di schermature anti-insetto e protettive per la luce solare un investimento importante è quello dell'imprenditore trevigiano che si collocherà a capo di un'azienda con un giro d'affari nell'ordine degli 80 milioni di euro di cui più di un terzo all'estero 400 dipendenti e 11 stabilimenti alcuni dei quali situati in altri paesi europei la Zanzar vanta oltre 35 anni di storia alle spalle e nel corso del tempo ha ampliato la propria offerta iniziale che prevedeva solo le zanzariere con l'aggiunta di svariati prodotti resi possibile anche grazie all'acquisizione di altri marchi una strategia, quella di investire in imprese del sud che non è una novità per 21 Invest dopo l'acquisizione di un'altra azienda pogliese la Carton Pack che si occupa di packaging alimentare e della siciliana Sifi nel ramo della farmaceutica l'obiettivo di Benetton è quello di affiancare l'approccio industriale di 21 Invest alla storia di Zanzar per consentire al gruppo di accelerare il percorso di crescita già in atto penetrando maggiormente nei mercati in cui è già presente e riuscendo a raggiungere di nuovi Andiamo a Belluno dove la città è ancora la top nella creatoria delle città verdi italiane a decretarlo il dossier ecosistema urbano realizzato da Lega Ambiente e Ambiente Italia ce ne parla Alessia Trentin Pur perdendo due posizioni rispetto alla precedente edizione Belluno si conferma la quarta città green del nord-est alle spalle di Trento, prima città per il secondo anno consecutivo di Pordenone e di Bolzano e prima in Veneto, subito davanti a Treviso Tra i 18 parametri che maggiormente premiano il capoluogo dolomitico figurano i dati relativi alle vittime della strada e alla bassa produzione di rifiuti e all'alto tasso di raccolta differenziata commenta i dati il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro Belluno ormai da 6-7 anni stabilmente in cima alle classifiche sul ecosistema urbano quest'anno ottavi a livello assoluto primi in Veneto, quarti in Triveneto ma primi fra le città che appartengono a regioni a statuto ordinario che quindi non hanno i soldi che hanno le città a statuto speciale come Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per noi è un risultato eccezionale e tra l'altro un risultato che viene nonostante noi risultiamo una città senza verde pubblico perché non avendo noi avuto la possibilità di fare il censimento del verde pubblico praticamente risultiamo senza alberi cosa che tutti i bellunesi sanno non essere proprio così anzi abbiamo semmai il problema opposto e cioè del bosco che continua a crescere che va tenuto sotto controllo un risultato straordinario che premia anche molto i comportamenti dei bellunesi Chiudiamo con un flash su Verona, città del cavallo un progetto presentato oggi da Verona Fiere che ha ottenuto il patrocinio del Comune per l'inaugurazione di una Equivia un'ippovia urbana prevista domenica 14 novembre in occasione della giornata conclusiva della Kermes dedicata ai cavalli è un'iniziativa che si propone di valorizzare e potenziare il legame che la città ha costruito nei secoli con questo splendido animale nei suoi servizi e nei suoi diversi utilizzi a partire dall'impiego come animale da tiro per il traino controcorrente delle Zatteri in Adige lungo le alzaie fino all'intensa attività fieristica avviata dal 1897 un percorso quello dell'Equivia che prevede un itinerario di 15 chilometri per un'escursione della durata di 4 ore che può essere suddiviso in più parti a seconda delle esigenze dei cavalieri e dei turisti che si mettono in viaggio Ora come di consueto andiamo a farci raccontare alcune delle anticipazioni che troverete domani sulle pagine del Gazzettino in compagnia di Ario Gervasutti Buonasera Buonasera, buonasera a voi telespettatori di Udinese TV Domani in primo piano sul Gazzettino c'è ancora la situazione del Covid perché ci sono delle decisioni prese a livello nazionale in particolare la prima riguarda la terza dose quindi la terza dose di richiamo del vaccino che è stato deciso sarà offerta, proposta agli over 40 cioè a chi ha più di 40 anni tra i 40 e i 60 anni a partire da dicembre e quindi insomma si va verso una diffusione di questa terza dose con delle cadenze molto precise e con un sistema vicino, analogo a quello che è stato utilizzato per le prime due questo perché evidentemente ci sono le evidenze della utilità, necessità di mantenere alta la soglia di anticorpi per far fronte a un Covid che continua ad essere aggressivo al punto che in Veneto ci sono in questo momento molte persone in terapia intensiva e quasi tutti quelli che sono in terapia intensiva sono intubati è stato detto stamattina durante la consuetta conferenza del governatore Zaia in particolare da questo punto di vista c'è un numero che è evidente e balza all'occhio e cioè che su un milione di persone una persona vaccinata finisce in terapia intensiva ma ben 27 tra quelli che finiscono in terapia intensiva sono non vaccinati quindi il rapporto di rischio è 1 a 27 tra chi è vaccinato e chi non lo è ed è questo uno dei motivi che spinge il governo ad accelerare appunto sulla terza dose c'è poi un'altra decisione a livello nazionale che è quella che in queste ore sta prendendo il Viminale, il Ministero degli Interni sta prendendo perché, lo diciamo in corso d'opera perché non sono ancora arrivate i dettagli di questa decisione sulla stretta riguardo ai cortei di protesta dei Novax e dei No Pass una stretta che ormai è data per assodata ma i termini di queste limitazioni non sono ancora stati definiti o meglio sono stati definiti ma con due circolari una successiva all'altra che avevano delle incongruenze e delle differenze l'una con l'altra quindi si aspetta in queste ore, in questi minuti la indicazione definitiva da parte del Viminale per sapere se, come si ipotizza le manifestazioni e i cortei nei centri delle città saranno vietati ci sono molte altre notizie di politica anche di cronaca, ve ne segnalo un paio la discussione, lo scontro, insomma la polemica tra un sacerdote di San Zenone in provincia di Treviso e il sindaco in merito alla sconfitta parlamentare del percorso del disegno di legge Zhang ebbene siamo di fronte a un sacerdote che aveva organizzato una messa di ringraziamento per la sconfitta del percorso di questo disegno di legge e il sindaco, in questo caso dichiaratamente omosessuale che invece esprime tutto il suo stupore per una posizione del parroco così drastica si è arrivati nelle ultime ore a un riavvicinamento delle posizioni a un incontro tra i due ma le posizioni ovviamente restano c'è una situazione anche che riguarda l'imprenditore Marco Zennaro l'imprenditore veneziano da mesi ormai prigioniero in Sudan dove c'è una situazione tra l'altro di colpo di Stato quindi non certo facile ebbene oggi doveva esserci un'udienza l'ultima udienza si sperava di questo eterno processo udienza che è stata rinviata ennesima beffa perché non si è presentato l'accusatore di Zennaro e quindi si spera che tra 15 giorni si possa andare verso la parola fine di questa disavventura queste e altre notizie ovviamente le troverete con il gazzettino domani in edicola questa sera dopo la mezzanotte chi ha l'abbonamento digitale può già leggerle in anteprima grazie, grazie e buona lavora Dario Gervasuti e colleghi del gazzettino noi siamo in chiusura vi lasciamo le previsioni del tempo dedicate al Veneto l'informazione torna domani alle 20.30 buona serata ben trovati agli amici di Dinesse TV che ci seguite dal Veneto situazione sulla nostra regione per la giornata di giovedì con stabilità ritroveremo ampi aperture del cielo sulle nostre regioni solo di tanto in tanto qualche annuvolamento improduttivo blando sul Polesine altrove invece schiarite anche ampie per una giornata abbastanza tranquilla di fatti anche le massime saranno piacevoli durante il pomeriggio valori diffusamente tra i 16 e i 18 gradi sulla pianura Veneta ulteriori dettagli approfondimenti anche per il weekend scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti